ciao a tutti oggi prepareremo il frappuccino il tempo di preparazione della ricetta è di due minuti circa gli ingredienti sono caffè freddo latte intero freddo zucchero semolato gocce di cioccolato fondente e cubetti di ghiaccio diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10 rimaniamo sul fondo del boccale lo zucchero aggiungiamo il caffè freddo il latte freddo le gocce di cioccolato e i cubetti di ghiaccio chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità da 5 fino ad arrivare a 10 il frappuccino è pronto serviamolo in dei bicchieri frappuccino grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti